Grazie a tutti 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 Però come abbiamo sentito I tifosi locali sperano in un pareggio Ci temono E' bene così, va bene così Certo Importante non perdere Però Il sogno c'è Ci abbiamo verso l'isola di Sant'Elena dove si trova lo stadio Penso Mezz'ora, un'ora e mezza dell'inizio della gara Farfalle nell'esola di Sant'Elena dove si tratta di far falle nell'ossomago Una sola cosa Una sola cosa Cristo del Camorato Cristo del Camorato Il Camorato Il Camorato No, 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 no. No, 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 no.